Tornano le fibrile azioni a 15 tra i Cava e i Graziano, i due clan camorristici che per decenni si sono affrontati in una faida senza esclusione di colpi per il controllo delle attività illecite sul territorio. Nel corso dei controlli da parte degli agenti del commissariato di Lauro, coordinati dalla procura di Avellino, è stata arrestata Felicetta Cava, 41 anni, strettamente imparentata a Gobbiaggio Cava, ritenuto il boss dell'omonimo clan. È stata trovata in possesso di una pistola calibro 6,35, illegalmente detenuta con caricature inserito e colpo in canna. La donna è stata trasferita a domiciliare in attesa della convalida da parte del GIP del Tribunale di Avellino. Felicetta Cava rimase gravemente ferita il 26 maggio del 2002, quando aveva 19 anni nella cosiddetta strage delle donne, nella quale è perso la vita in un agguato portato a termine dalle donne del clan Graziano, Michelina Cava, sorella di Biaggio, la cognata del boss, Maria Scibelli e la figlia Clarissa di 16 anni. Le indagini che portarono all'individuazione dei responsabili e alla loro condanna nei processi vennero seguite dall'attuale procuratore capo di Avellino Domenico Airuma, all'epoca sostituto procuratore della DDA di Napoli.